eccoci qua benvenuto o benvenuta nel corso guitar mindset di che cosa parleremo sostanzialmente è una lunga chiacchierata che faremo anzi che farò potresti pensarlo come un podcast perché gli esempi in cui ti sarà indispensabile guardare il video sono veramente pochi quindi potresti anche evitare di vedere il mio faccione per tutti questi minuti e semplicemente invece ascoltarmi ma ho qui degli appunti di che cosa parleremo allora in realtà di quello che sono gli approcci più psicologici a ciò che probabilmente tu vorresti fare cioè suonare la chitarra e quindi ho raccolto nel tempo un po di testimonianze e di frasi che mi sono state dette quindi parleremo prima di tutto del fatto che suonare è difficile e quindi a volte viene da mollare e cercherò di trovare il modo di convincerti a non mollare e perché non bisogna mollare perché suonare è difficile ma è realmente una ricchezza questo sarà proprio il primo video poi ti parlerò di come seguire le lezioni e come fidarti di me e del mio metodo didattico che applico in tutti i corsi che faccio siano essi corsi online e learning o corsi su carta stampata i miei manuali sostanzialmente che faccio da ben più di vent'anni mi occupo di corsi da tantissimo cioè tu pensa che il mio primo corso in vhs è del 96 cioè c'erano le lire giusto per dare l'idea a chi soprattutto chi guarda questi corsi che è un millennial le lire probabilmente la viste soltanto in un museo ecco io faccio parte di quel museo quindi come seguire le lezioni e come impostare lo studio per passare da una lezione all'altra da un corso all'altro e in modo divertente dinamico non mollare non frustrarsi e non annoiarsi questo è molto importante per questo è una chiacchierata che ho voluto fare invece che col solito sfondo bianco qui nello studio quindi io e franco abbiamo allestito anche la parte video qui nello studio audio dove produco la mia musica o la musica che produco per altri e in modo da fare questa chiacchierata che ripeto non necessita della parte video però se il video è figo è meglio ok poi ti parlerò di come ho inserito e come tu dovresti inserire le difficoltà in modo oculato e logico tutta la mia didattica è molto 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 strutturata e pensata per non dare mai fregature al mio studente ai miei studenti che si trovino a un certo punto ad avere un qualcosa che li possa distrarre il filo conduttore è sempre tenuto ben teso poi le domande tipiche che sono anche delle scuse sai avevo pensato di iniziare a suonare ma mi sono accorto che sono troppo vecchio e vedremo perché non sia troppo vecchi o quelli che dicono è guarda iniziato a suonare ma c'ho la mano piccola e quindi non riesco a fare certi accordi con l'altro no ho la mano troppo grande e poi ho fatto sono adesso in pensione comincio a suonare ho la mano troppo grossa ho fatto per anni il muratore ho fatto un lavoro pesante non riesco a suonare eccetera per ogni così diciamo scusa ho trovato un modo di ribattere oppure quelli che dicono che hanno le dita cicciotte roba del genere o quelli che dicono mi fanno male i polpastrelli e quindi vedremo come fare mi vengono le vesciche nelle dita e io faccio vedere faccio sempre così no dico guarda io sono da 40 anni e se ho le vesciche io che non sono vesciche questi sono calli però ogni tanto hanno bisogno un pochino così di una rassettata ecco bisogna abituarsi fa parte e come il corridore che corre una maratona e ogni tanto diviene un'unghia nera può succedere bene quindi vedremo anche poi come studiare con la chitarra come organizzare il tempo con la chitarra e come studiare senza chitarra dal punto di vista anche teorico di percezione della musica e poi ti darò vi darò una tabella da completare per creare il proprio programma di studi che sia ben strutturato ok e intelligente fatto in un modo che ci crei una matrice come se fossero gli orari di una scuola stiamo su una scuola e learning uno potrebbe seguire più corsi ma se segue un corso ad esempio un corso base ok dove dove a corso di chitarra elettrica acustica classica e teoria come distribuire i tempi qui e all'interno di un corso come potrebbe essere electric guitar accelerator quali sono le parti da organizzare nel tempo e quindi sarà una tabella di marcia veramente molto molto importante da distribuire per le ore per gli slot di tempo così è una metodologia che ho trovato e che spiego i miei i miei studenti che incontro personalmente che si è dimostrata praticamente infallibile se ovviamente uno studia e si applica quindi un corso diverso da tutti gli altri e quindi non ti dico non perdiamo altro tempo perché questo non è tempo perso perché ti voglio dare la carica per andare avanti e quindi buon divertimento grazie a tutti grazie a tutti